Le enormi iscritte lungo Viale Miramare colorano l'asfalto, l'adeguamento della viabilità è completo, le insegne con la proverbiale P di parcheggio sono già installate e ci sono pure i paletti in stile a delimitare l'ingresso e l'uscita. Il park Bovedo di Barcola è sostanzialmente pronto. In giornata le ultime sistemazioni al manto in ghiaia dove verranno parcheggiate le vetture grazie all'infaticabile lavoro degli operai. Si tratta della prima opera realizzata nell'estremo lembo a nord del Porto Vecchio, fortemente voluta dal sindaco di piazza in tempo per la cinquantesima edizione della Barcolana e ormai in grado di accogliere i primi utenti. Sì, domani mattina già lo consegniamo alla comunità slovena, alla sirena, al circolo nautico e alle 10.30 del 5 ci sarà la mega inaugurazione per tutti. Lavori scattati il 21 maggio e andati avanti a pieno ritmo per poco più di 4 mesi, 530.000 euro per circa 500 posti auto sul sedime dei vecchi binari, anche se a breve è previsto, come anticipato dal sindaco a Ring, un secondo lotto dei lavori per raddoppiarne la capienza per la gioia delle vicine società nautiche. Il parcheggio, che ambisce ad essere un punto di riferimento sia per il Porto Vecchio che per la riviera di Barcola, verrà servito con apposite fermate degli autobus delle linee 6 e 36, stamani il sopralluogo dei tecnici competenti di Trieste Trasporti.